Sono lenti questi ballerini, mi fanno stare qui a me, ci sono quelle ragazze che, mamma mia ste donne, come sono lenti a cambiarsi ste donne Sono là che prendono il caffè, partono, stiamo qui che li aspettiamo Ricordiamo che finita l'esibizione di ballo sono presenti e già aperti gli stand gastronomici e questa sera si balla con l'orchestra Edmondo Comandini Grazie Eccoli, eccoli, eccoli che si avvicinano, con calma, con calma, è caldo, sentono caldo ma adesso, fai gli spiritosi ma adesso li facciamo sudare, li facciamo sudare Eccoli qua, bene vedo che sono pronti E allora, sono detto di annunciarvi l'inizio del 2019 delle sirene danzanti dei maestri Sandra Filippi e Mirko Ermetti di Rimini delle sirene danzanti Quest'oggi della sezione di Milagrande dei maestri Mario Severini Inizieranno a ballare con voi, Berpo, e io li accoglierei con un fortissimo applauso I competitori agonistici delle classi bronzo e argento Salvatore Fettica, Stefano Elogzi, Luca e Arianna, Alberto e Carlotta e li abbiamo già visti Dennis e Ilenia I nostri ballerini che ridono, adesso li vedremo anche sudare, con questo bel vestitino rosso ci presenteranno un waltzer dal titolo Rete Rossa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti